Ciao a tutti ragazzi! In questo video vediamo come utilizzare i bastoncini da trekking. Vedremo come progredire in pianura, in salita e in discesa, cosicché da oggi sapremo utilizzarli al meglio nelle nostre varie escursioni. Perciò iniziamo subito col video. Come prima cosa, prima di analizzare le tecniche di progressione, dobbiamo parlare un attimo naturalmente del bastoncino. Questo che utilizzerà un bastoncino telescopico. Se non sapete cosa vuol dire questa parola o se non sapete quali bastoncini andare ad acquistare, vi lascio qua in alto a destra nelle schede la guida all'acquisto che ho realizzato sui bastoncini da trekking, cosicché possiate sapere sia i termini tecnici che quali andare ad acquistare. Adesso iniziamo vedendo naturalmente come andare a decidere l'altezza del nostro bastoncino. La cosa importante è che noi dovremo avere il gomito che sarà a 90 gradi rispetto al terreno. Questa sarà l'altezza giusta del nostro bastoncino, quindi io vado ad aumentare l'altezza del mio a caso. Dico la verità, proprio a caso, senza un'altezza specifica, così da capire un attimo. Come potete vedere, in questo caso ho sbagliato misura perché l'angolo è più aperto, quindi dovrò andare ad aumentare la misura del bastoncino. Vado ad aumentarla un pochino e riprovo. Lo ripunto vicino al mio piede e in questo caso vedete la misura esattamente di 90 gradi, quindi questa sarà l'altezza giusta del mio bastoncino, così che mi aiuterà al meglio in salita, in tutti i vari tratti del percorso. Ora che sappiamo come decidere l'altezza del nostro bastoncino, iniziamo vedendo le varie tecniche di progressione. Iniziamo a vedere la tecnica di progressione sul terreno più facile, la pianura. Per la pianura utilizziamo quella che si chiama camminata alternata, quindi cosa vuol dire? Noi partiamo e andiamo a utilizzare il braccio opposto rispetto al piede che sta davanti, quindi mi spiego meglio. Se vado avanti col piede sinistro, dovrò andare avanti col braccio destro, se invece vado avanti col piede destro, dovrò andare avanti col braccio sinistro. Questa cosa qua, fidatevi, è naturalissima, nel senso ci viene naturale quando corriamo che utilizziamo il braccio opposto rispetto al piede che sta davanti. In questo caso magari dobbiamo solamente metterci un pochino e impararla, ma ci voglio un giusto cinque minuti per trovare un po' di coordinazione, perché fidatevi è veramente naturale. Quindi iniziamo, piede sinistro avanti, braccio destro, piede destro, braccio sinistro e così andando avanti. Noi possiamo anche decidere di portare il bastoncino un pochino più avanti, così da fare tutta l'escursione del bastoncino insieme alla nostra camminata. Questo è molto simile al nordic walking, non so se qualcuno di voi lo pratica, ma la tecnica è praticamente la stessa, soprattutto in pianura. Perciò così si prosegue in pianura. Adesso continuiamo vedendo come si va in salita. Per quanto riguarda la salita, qua abbiamo due tecniche che possiamo utilizzare, che sono interscambiabili, come ci troviamo meglio. Una io la chiamo camminata doppia, che poi vi vado a spiegare, ma iniziamo con la camminata alternata, come abbiamo visto prima. Io personalmente mi trovo bene ad utilizzare la camminata alternata nei tratti meno ripidi, quindi quelli dove si può andare anche abbastanza veloce. Nei tratti più ripidi, vi farò vedere dopo, io preferisco utilizzare la camminata doppia. A questo punto, come dicevamo, andiamo di camminata alternata nello stesso modo in cui abbiamo fatto quando andavamo sul terreno piano. Perciò anche qua, mi raccomando, piede destra avanti, mano sinistra e continuiamo in questo modo, sempre utilizzando il braccio opposto. Una cosa che cambia in questo caso è dove noi andiamo a posizionare la punta del bastone. Mi spiego meglio. Noi, quando andiamo a camminare in piano, tendiamo a puntare in avanti il bastone. Qua no, qui sarà sempre un puntarlo all'indietro. Deve essere puntato all'indietro, perché se puntiamo in avanti non riusciamo a farci presa, per intenderci. All'incirca, quando noi lo portiamo avanti, dobbiamo portarlo all'altezza del piede che è rimasto all'indietro. Quindi in questo momento, se vado avanti col destro, potete vedere il bastonello punto all'altezza del piede a sinistro. E via dicendo. Deve essere un continuo puntarlo all'indietro per poterci spingere in avanti. Nei tratti più duri, ma proprio belli ripidi, io vado con quella che io chiamo camminata doppia. Non so se è un termine tecnico giusto, dico la verità, ma magari si potrebbe chiamare anche in altro modo. Cosa intendo fare? Io vado a puntare i bastoncini alla stessa identica altezza. Molto importante, il braccio non deve essere teso, altrimenti poi ci sbilanciamo. Non va bene essere sempre un pochino piegato, mi raccomando. Andiamo a puntare i bastoncini e a camminare. Ci fermiamo, o meglio, portiamo avanti i bastoni quando arriviamo, diciamo, ad avere il bastone all'altezza del fianco. A questo punto, riandiamo a portare in avanti il bastone. Saliamo, quasi appendendoci un pochino al nostro bastone, e sempre lo riportiamo avanti. Quindi, naturalmente, bastone vicino al fianco e lo riportiamo su. E via dicendo. Io continuo così, puntando entrambi i bastoni, nel momento in cui mi si avvicinano al fianco. Come vedete, così non faccio neanche tanta fatica, perché sto benissimo parlando su un pendio veramente ripido. Per quanto riguarda la discesa, innanzitutto ricordiamoci che dobbiamo allungare i nostri bastoncini. Di quanto volete deciderlo voi? Io di solito tendo a iniziare dai 5 centimetri e poi, nel caso, lo aumento fino a 10. Mi raccomando, però, quando alziamo i bastoncini ricordiamoci di dividere 5 centimetri. Quindi, nel caso, 2 centimetri e mezzo sopra e 2 centimetri e mezzo sotto. Una volta allungati siamo pronti per scendere. Questo, naturalmente, allungarli ci serve perché, andando in discesa, la cosa importante da fare è tenere i bastoncini verso valle. Un pochino con le braccia aperte. Magari, se riusciamo, utilizziamo sempre anche qua il laccetto, così da poter scaricare e non perdere il bastoncino. E per scendere, beh, anche qua, andiamo tranquillamente appoggiando entrambi i bastoncini. Io non vi consiglio di fare la camminata alternata in discesa perché si rischia un po' di scivolare, se il terreno non è messo bene, ma di andare in camminata doppia, quindi appoggiando singolarmente i bastoncini con un unico appoggio. Quindi, andando, noi camminiamo. Quando arriviamo più o meno a questa altezza, cambiamo i bastoncini all'altezza, diciamo, del nostro busto, dei nostri fianchi, li riportiamo in avanti e continuiamo così, camminando, camminando, camminando. Poi, naturalmente, dipende che tipo di discesa abbiamo, perché se siamo in una discesa particolarmente ripida, questa cosa non è possibile farla. Questa cosa è possibile farla in discese, come dire, abbastanza dolci. Se siamo in un bosco, con una discesa ripida, piega di sassi, eccetera, a quel punto puntiamo sempre i bastoni a valle e scendiamo. Perciò, ragazzi, ora che abbiamo visto tutte le tecniche di progressione in base ai vari terreni, non avete più scuse per non utilizzare i bastoncini. Mi raccomando, perché oltre che a migliorare l'equilibrio ci aiutano davvero tanto nel risparmiare energia e quindi a fare dei trekking più lunghi e a goderci di più il panorama. Io, nella speranza di avervi aiutato con questa serie di video sui bastoncini. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!